In un'estate che ha registrato temperature da record, il riposo notturno è stato sistematicamente poco confortevole o ha dovuto convivere con i condizionatori costantemente accesi nell'estate dei super rincari di bollette. Eppure esiste una terza via dal soffrire il caldo sul giaciglio o dal digerire bollette salate. Si può infatti dormire su letti corredati di filati con materiali tecnici e all'avanguardia che disperdono il calore producendo effetti rinfrescanti. Materiali fabbricati e commercializzati dall'arte del riposo fra la produzione d'azienda a Montelavate e l'esposizione nello showroom pesarese in zona torraccia. Noi dell'arte del riposo ci siamo attrezzati a produrre dei tessuti tecnici, diversi tipi di tessuti tecnici tra i quali abbiamo introdotto un tessuto nostro con delle caratteristiche principali che sono quelle di aiutarci durante il sonno con il calore usando dei filati tecnici, usando dei filati particolari come dicevo per abbassare la temperatura corporea. Con questi tessuti noi produciamo sia coprimaterassi per cui chi ha già il materasso che ritiene caldo, che ritiene poco confortevole può usare il nostro materasso per rinfrescare un po' questo materasso e anche copri guanciale. Oppure noi produciamo direttamente materassi con la cover, con il tessuto, questo tipo di tessuto qua, per cui già corredato di questo tipo di tessuto termico. Questi materiali che noi abbiamo prodotto, questi tessuti, sono tutti i tessuti testati con l'EcoTest che è un test che viene fatto per la nocività dell'ambiente e delle persone, addirittura anche per i neonati e questo tessuto è formato da filati molto particolari che disperdono la temperatura corporea oltre ad essere allergici, antibatterici e lavabili, per cui facilmente igienizzabile, basta mettere la lavatrice con un normale lavaggio disinfettante che ci sono sempre igienizzati, per cui è anche pratico come manutenzione.